un caro saluto a tutti siamo per iniziare il rosario quest'oggi siamo all'antica cascina venezia proprio ai confini di guanzate siamo qui per due motivi prima di tutto per pregare per la nostra sorella teresina è mancata qualche giorno fa il suo funerale sarà celebrato al suo paese quando le ceneri saranno portate quest'estate a casa nella sua terra vogliamo però questa sera ricordarla con tutta la sua famiglia e pregare perché la sua anima possa andare in paradiso e poi il secondo motivo è che siamo qui di fianco a questa bella grotta che rappresenta la madonna di l'urde è stata voluta da un'altra nonna che ha fatto un po la storia di guanzate la nonna antonietta scorti per tanti anni ha accompagnato l'unitalsi come croce rossina gli ammalati dell'unità sia l'urde e così ha voluto anche a casa sua questo piccolo ricordo della grotta di maribel dove maria è apparsa a bernardette questa grotta ha anche un altro piccolo aneddoto non è sempre stata qui era costruita proprio dove ora passa la terza corsia dell'autostrada ma quando gli operai hanno dovuto fare spazio a cuor leggero hanno abbattuto la casa davanti alla grotta si sono fermati e il giorno dopo hanno tentato imbragandola di spostarla e sono riusciti a sollevarla senza romperla e a deporla qui all'ingresso di questo vialetto allora vogliamo ricordare con questo piccolo aneddoto la fede dei nostri nonni che ci hanno insegnato a pregare vogliamo pregare per tutti i nonni che da questa malattia sono stati portati via e vogliamo chiedere al signore che insegni ai più giovani la stessa generosità la stessa tenacia la stessa dedizione che hanno avuto i nostri nonni gloria al padre al figlio e allo spirito santo l'ho dato sempre sia gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia e martedì contempliamo i misteri dolorosi nel primo mistero gesù prega nell'orto degli ulivi allora gesù uscì per andare al monte degli ulivi i suoi discepoli lo seguirono inginocchiandosi pregava così padre se puoi allontana da me questo calice però non la mia ma la tua volontà sia fatta preghiamo vergine adolorata otteneci un pentimento sincero dei nostri peccati con il proposito di fare sempre la volontà di dio anche quando comporta rinuncia padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra grazie oggi il nostro pane quotidiano e rimettiano i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male ave maria piena di grazie signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù ave maria piena di grazie al signore con te ave maria piena ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù ave maria piena di grazie al signore con te ave maria piena di grazie al signore con te ave maria piena di grazie al signore con te ave maria piena di grazie al signore con te ave maria piena di grazie al signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il seno del frutto tuo Gesù gloria al padre al figlio e allo spirito santo l'ho dato sempre sia Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia nel secondo mistero contempliamo Gesù flagellato alla colonna Pilato diceva loro che male ha fatto allora essi gridarono più forte crocifigilo e Pilato volendo dar soddisfazione alla moltitudine rilasciò Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso preghiamo Vergine addolorata ottienici di sopportare i sacrifici della vita e fa che ritrovino speranza coloro che sono afflitti dall'umiliazione dalla ingiustizia e dal dolore Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra lanci oggi il nostro pane quotidiano rimenti a noi i nostri debiti come noi li rimentiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma libera ci diamo Ave Maria Ave Maria piena di grazie Signore con te tu sei benedetta 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 piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte e anni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte e anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù coronato di spine. Esbogliatolo, li misero addosso un manto escarlato e intracciato a una corona di spine. Gli elapossero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre li si inginocchiavano davanti, lo escarnivano. Preghiamo. Vergine addolorata, ottiene per tutti gli uomini una fede incrollabile in Cristo, nostro unico vero Re e Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Paggia oggi è il nostro pane quotidiano, che rimenti a noi i nostri deliti, come noi le rimentiamo ai nostri debitori, e non cinture. In razione, ma libera il suo armare. Amo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Santa Maria, ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amore. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ed ora è sempre, nei secoli dei secoli. L'ho dato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Gesù. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso, contempliamo Gesù, che porta la croce. Essi allora, prezzero Gesù ed Elì, portando la croce. Si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgotha, dove lo crucifissero con Lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Preghiamo Vergine addolorata, ottienici la forza di imitare Cristo nel portare la nostra croce, e fa che mai ci sottraiamo alla responsabilità di portare i pezzi gli uni degli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro romano e quotidiano, che rimetti a noi i nostri figli, come noi li rimettiamo ai nostri produttori, che non ci indurano in passione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, pecatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù che muore in croce. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che li amava, disse alla madre, donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo, ecco la tua madre. Detto questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, dice per adempiere la scrittura, o sete, e dopo Gesù dice, tutto è compiuto. E chi nato il capo, spirò. Preghiamo. Vergine addolorata, raduna tutti gli uomini attorno alla croce di Cristo affinché siano penetrati dall'avviso del suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Caggia oggi il nostro pane quotidiano. Avimentiamo i nostri figli di Dio, come noi avimentiamo i nostri figli di Dio. E non ci ridurre in sensazione, ma liberaci dal mare. Amore. Ave Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetta il frutto di tutto il seno, Gesù. Santa Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetta il frutto di tutto il seno, Gesù. Santa Maria, piena di gratis, Signore con te. Ave Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetta il frutto di tutto il seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nel cuore della nostra morte. Ave Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetta il frutto di tutto il seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta per le donne, benedetta il frutto di tutto il seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di gratis, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, amè Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo L'ho dato sempre sia Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia Salve Regina, Mater Misericordie, vita dolce do, et spes nostra salve Ad te clamamus, exulex filieve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle Eia ergo, ad vocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis postoc exilium ostende O clemens, O pia, O dulcis virgo Maria Preghiamo secondo le intenzioni del nostro Papa Francesco Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori Adesso è nell'ora della nostra morte, Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo Ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen L'eterno riposo, dona a lei, o Signore E splenda a lei la luce perpetua Riposi in pace, Amen Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova Ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta Signore, pietà Cristo, pietà Signore, pietà Cristo, ascoltaci Cristo, esaudiscici Padre del Cielo, che sei Dio Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio Spirito Santo, che sei Dio Santa Trinità, unico Dio Santa Maria Santa Madre di Dio Santa Vergine delle Vergini Madre di Cristo Madre della Chiesa Madre della Divina Grazia Madre Purissima Madre Castissima Madre sempre Vergine Madre Immacolata Madre degna d'amore Madre ammirabile Madre del Buon Consiglio Madre del Creatore Madre del Salvatore Madre di Misericordia Madre Prudentissima Vergine degna di Onore Vergine degna di Lode Vergine potente Vergine clemente Vergine fedele Specchio della Santità Divina Sede della Sapienza Causa della nostra Letizia Tempio dello Spirito Santo Tabernacolo dell'Eterna Gloria Dimora tutta consacrata a Dio Rosa Mistica Torre di Davide Torre d'Avorio Casa d'Oro Arca dell'Alleanza Porta del Cielo Stella del Mattino Salute degli Infermi Rifugio dei Peccatori Consolatrice degli Afflitti Aiuto dei Cristiani Regina degli Angeli Regina dei Patriarchi Regina dei Profeti Regina degli Apostoli Regina dei Martiri Regina dei Veri Cristiani Regina delle Vergini Regina di tutti i Santi Regina concepita senza peccato originale Regina assunta in cielo Regina del Santo Rosario Regina della Famiglia Regina della Pace Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci o Signore Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi Prega per noi Santa Madre di Dio E saremo resi degni delle promesse di Cristo Preghiamo O Dio il tuo unico Figlio Gesù Cristo Ci ha procurato i beni della salvezza eterna Con la sua vita, morte e risurrezione A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria Abbiamo meditato questi misteri Concedi di imitare ciò che essi contengono E di raggiungere ciò che promettono Per Cristo nostro Signore Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Andiamo in pace Ora concludiamo con un canto Mentre trascorre la vita Solo tu non sei mai Santa Maria del Camino Sempre sarà con te Vieni O Madre di Dio Vieni O Madre di Mezzo a noi Vieni Maria qua giù Cammineremo insieme a te Verso la libertà Vieni O Madre di Dio Quando qualcuno ti dice Nulla mai cambierà Lotta per un mondo nuovo Lotta per la verità Vieni O Madre di Mezzo a noi Vieni Maria qua giù Cammineremo insieme a te Verso la libertà